Salve a tutti e benvenuti su OlipizTV, all for you, tanto prima o poi vieno pure tu su OlipizTV. Andiamo a combattere questa lunga e dura battaglia cercando di portare a casa il risultato positivo con un'altra piccola canzone in scena dal titolo, Antenati. Vado, uno, due e tre. Sono due mesi chiusi dentro a soffrire, senza nulla, ma nulla a capire. Vogliono continuare a comandare, ma non sanno neanche da dove cominciare. Trasparenza vuol dire coerenza e competenza. Invece siamo in mano a chi nulla sa o sa fare, senza nessuna attinenza. Vogliono continuare a comandare, ma non sanno neanche da dove cominciare. Bei tempi andati, mai dimenticati. Dove la pagnotta sudata era un orgoglio dei nostri antenati. Vogliono continuare a comandare, ma non sanno neanche da dove cominciare. Vogliono continuare a comandare, ma non sanno neanche da dove cominciare. Vogliono continuare a comandare e insistono, ma non sanno neanche da dove cominciare. a casa all'epizzo tv alforio tanto prima o poi viene pure tu puoi ricevere ma quando mai cavalloni gigante se li devono prendere tutti ci dobbiamo liberare di questi parassiti e topi giganti noi siamo un grande popolo vero con questo vi saluto e vi rimando alle prossime alforio tanto prima o poi viene pure tuo, arrivederci